Altissimo, Omnipotente, Oh, Signore. Il trova-cadaveri non è un lavoro che possono fare tutti. Mi spettano 545 e 34. 850. Ma che mi vuoi rovinare? Io devo tenere le spiagge pulite. Se ti scopre la polizia, io sono fottuta. Condanniamo poco. Un altro modo per fare soldi li troveremo. E poi ci sta invece chi si fotti i morti degli altri e viene pure pagato prima e gli nascosti. Non mi costringete a farvi ritirare l'autorizzazione. Bisogna avvertire gli scafisti che se non arrivano a pancia sotto, soldi non se ne muovono. Pezzi di merda! Il destino a sbarre come carcere. Non ce la faccio, io vado via! La gente è convinta che i morti ci voltino le spalle. E invece sono rimasti tutti qui. Voglio lavorare con te, conosco Mestier. E tu con voi! Rubano i morti! Se polizia vedi che io lavoro con te... I soldi risolvono tutto. Voi siete terroristi invasori. Tu non sei niente dell'Islam. I morti sono l'industria del futuro per tutti. E voi l'avete capito prima di tutti. A me pare che a morire per il momento... Siamo noi.